ciao a tutti e bentrovati la storia che sto per raccontarvi potrebbe essere tranquillamente la sceneggiatura di un film perché al suo interno c'è il mistero ci sono i colpi di scena i depistaggi ci sono dei personaggi che definire stravaganti è riduttivo ma c'è anche la tragedia in america il caso ha avuto un eco piuttosto importante non so se voi lo conosciate già io comunque cercherò di raccontarvelo al meglio ci troviamo a san marino una città residenziale nella contea di los angeles a nord est della capitale è il 1985 e due normali ventottenni del posto si stanno godendo il loro secondo anno di matrimonio lui è john jonathan robert alanagrafe sauce è nato il 20 dicembre del 1956 viene adottato quando è molto piccolo da ruth sherwood dunnigan sauce e dal suo terzo marito bob che però poco dopo nel 1960 la lascia l'uomo pare avesse la malsana abitudine di chiedere denaro in prestito senza mai restituirlo e un giorno a detta della moglie di punto in bianco lascia la california e si trasferisce in arizona con l'altra figlia ellen da dove però continua a tenersi in contatto con john il quale non conoscerà peraltro mai i suoi genitori biologici è un bambino tranquillo più mingerlino dei suoi coetanei non ha tantissimi amici e mantiene anche crescendo un carattere timido e riservato stabilisce con la madre adottiva ruth chiamata da tutti didi un legame molto forte ed è un fan sfegatato di star trek ma ama un po tutta la fantascienza e proprio grazie a questa sua passione un giorno fa la conoscenza di linda mayfield anche lei ama perdersi in quei mondi fantastici frequenta raduni e convention a tema e così il destino mette john e linda sulla stessa traiettoria anche lei è nata nel 1956 precisamente il 17 settembre ha una personalità colorata linda come i suoi capelli rossi e i suoi occhi azzurri a dieci anni decide di lasciare la scuola e a 16 di voler vivere con la nonna e pare che il famoso adagio secondo cui gli opposti si attraggono sia nato proprio per loro perché linda è estroversa creativa solare piena di idee si contrappone a lui anche per l'aspetto fisico lui con anonimi capelli e occhi castani occhialoni da secchione e più basso di lei di oltre dieci centimetri lui conosce a menadito formule e stringhe per il suo lavoro da programmatore che svolge in un centro di ricerca correlato con la nasa a pasadina lei usa la fantasia nel suo lavoro di artista dipinge mondi fantastici e si firma con lo pseudonimo di kodi finalmente le sue opere stanno riscontrando sempre più attenzione e gliene vengono commissionate diverse per illustrare copertine o rappresentare eventi vari ma lavora anche presso una libreria a tema di sherman hoax il cui nome è tutto un programma è la los angeles science fantasy society and dangerous visions insomma l'avete capito è una coppia un po balzana ma a detta degli amici davvero divertente e amata da tutti si sposano il giorno pensate un po di halloween del 1983 e decidono di andare a vivere con didi la mamma di john nella casa dove lui stesso è cresciuto al 1900 di loren road a san marino lo fanno dicono per risparmiare soldi e potersi poi permettere a breve una casa tutta loro ma linda nonostante il suo carattere solare non è così felice della situazione anche perché didi ha problemi di dipendenza con l'alcol quindi la convivenza spesso si fa complicata a volte si lamenta con gli amici rispetto a tutto questo ma poi si risolve a portare pazienza per amore di suo marito a inizio del 1985 i due comunicano ai familiari e agli amici che john ha ricevuto un'allettante proposta di lavoro a new york i due devono presentarsi a un ente governativo ma non aggiungono altro in quanto è stata espressamente chiesta loro massima discrezione ma si confida linda con l'amica su quella poteva essere l'occasione di affrancarsi dal controllo di didi e dare il via a un futuro tutto loro il viaggio sarebbe durato due settimane e si incastra perfettamente con un altro già pianificato a marzo una volta tornati da new york infatti john linda e l'amica sue sarebbero andati a fenix per partecipare a uno dei loro amati festival della fantascienza linda porta i suoi adorati gatti in pensione paga la quota per due settimane e poi va a salutare la mamma susan mayfield le due si mettono d'accordo per andare a vedere il musical cats non appena linda fosse tornata da new york chiede inoltre alla madre di poter lasciare in custodia da lei il pick up bianco che con john ha appena acquistato ma lei si rifiuta perché avrebbe dovuto spostarlo almeno due volte in occasione della pulizia settimanale della strada e non se la sentiva il furgone resta dunque parcheggiato lungo la strada nelle vicinanze della casa di didi tutto è pronto e sistemato e così l'otto febbraio del 1985 i due salutano tutti e partono felici e eccitati come due ragazzini i giorni passano e ne passano più dei 14 previsti senza che i giovani sposi tornino a casa familiari e amici cominciano a interrogarsi su questo ritardo e si confrontano tra loro su chi avesse qualche notizia in particolare la preoccupazione assilla pesantemente la sorella minore di linda katie e l'amica su katie si reca più volte da didi per sapere se ha notizia dei ragazzi e lei risponde sempre in modo piuttosto confuso annebbiato si dice non preoccupata parlotta di una seconda luna di miele arriva a nominare perfino parigi ogni volta una versione diversa sempre più stampa strampalata katie attribuisce la non perfetta presenza della donna all'abuso dell'alcol e alle sue precarie condizioni di salute che stanno peggiorando e la costringono ad assumere sempre più farmaci quando due mesi dopo la partenza di john e linda la pensione chiama katie per avvisare che la sorella non ha ancora ritirato i suoi gatti avendo pagato per due sole settimane lei è certa che qualcosa di grave è successo perché linda amava i suoi gatti alla follia l'otto aprile del 1985 la famiglia di linda chiama la polizia che decide di sondare un po il terreno per capire se si possa trattare di un allontanamento volontario o se ci sia di mezzo qualcosa di più preoccupante come prima mossa vanno a parlare con didi e a dare un'occhiata alla casa interrogata in proposito lei ripete sempre la stessa versione data ai familiari della nuora che stanno facendo un lavoro top secret e che non c'è da preoccuparsi i poliziotti si rendono subito conto che la donna non è affatto lucida cercano di carpire più informazioni possibili e così vengono a sapere che all'interno della proprietà c'è un'altra piccola costruzione separata dalla casa una sorta di dependence che viene data in affitto e che attualmente è occupata da un inquilino decidono di andare a sentire anche lui nel caso avesse notato qualche dettaglio insolito o sapesse comunque qualcosa di più bussano alla porta viene ad aprire un ragazzo apparentemente un po più giovane di linda e john completamente nudo lo invitano a mettersi qualcosa addosso ma lui si rifiuta dicendo che pratica il nudismo gli chiedono quindi di fornire le sue credenziali dice di chiamarsi christopher chichester di risiedere in quella guest house da un paio d'anni e di non sapere nulla a proposito degli spostamenti di john e linda ovviamente li conosce ma i loro rapporti non sono mai andati oltre i saluti e alle solite frasi di circostanza la polizia ritiene che non ci siano elementi sufficienti per ritenere la sparizione di linda e john qualcosa di diverso da un atto discrezionale e quindi per il momento non agisce in nessuna direzione poco tempo dopo il silenzio dei due ragazzi viene spezzato da alcune cartoline illustrate che arrivano a didi alla famiglia di linda e a lidia marano la titolare della libreria di sherman hawks dove linda lavorava tutte le cartoline hanno il timbro postale di parigi sono tutte firmate linda e john e tutte contengono delle frasi stringate in una c'è scritto tipo new york mi manca ma posso sopportarla quella arrivata a didi recita abbiamo cambiato itinerario abbiamo bisogno di una lezione di geografia a lidia linda scrive non sono più a new york ma non è male ci vediamo presto e la calligrafia è proprio quella di linda ma quelle frasi sibilline senza ulteriori spiegazioni o indizi sulle loro intenzioni restano sospese nell'aria anche se familiari e amici per un po' placano la propria preoccupazione sostituita in parte dall'incredulità lidia marano riceve anche un paio di telefonate da delle agenzie di lavoro che chiedono un riscontro sull'operato di linda sauce insomma delle referenze professionali come se stessero valutando l'assunzione di linda poi tutto tace per qualche mese fino a quando a luglio dello stesso anno è didi stessa a chiamare la polizia sempre nella sua modalità un po' sconclusionata dice agli agenti intervenuti di essere ora sì disperata perché l'unico punto di contatto che aveva con suo figlio la fonte che le forniva tutte le informazioni su dove lui fosse e cosa stesse facendo era sparito i poliziotti capiscono che si sta riferendo all'inquilino che aveva aperto nudo la porta christopher cicchester l'uomo aveva fatto fagotto e se n'era andato senza nessun preavviso didi riferisce che anche il pick up del figlio è sparito ovviamente appare subito ci sia una correlazione tra i due fatti solo che didi non sa dire per certo da quanto manchi il mezzo potenzialmente era sparito prima della partenza di cicester solo che lei non se n'era accorta quindi la polizia anche se sospetta fortemente che sia lui ad averlo rubato non può procedere formalmente ma di fronte all'evidente incongruenza tra la testimonianza che lui aveva reso poco tempo prima ovvero che non sapeva nulla riguardo agli sposi e quanto asserito da didi gli investigatori decidono di fare qualche domanda qua e là per avere un quadro un po più preciso di christopher cicchester parlano dunque con amici conoscenti e membri della chiesa di san gabriel che lui frequentava emerge il ritratto di un giovane sì eccentrico ma divertente intelligente e a detta loro preparato su molti argomenti riferiscono che ha frequentato l'università della california seguendo un corso di studi sul cinema e che girava sempre portando con sé dei testi scritti da lui dicono poi che christopher poteva vantare l'appartenenza alla nobiltà inglese in quanto nominato tredicesimo baronetto chi porta questa testimonianza non ha la più pallida idea di cosa questo comporti e implichi motivo per cui non ha mai messo in discussioni tale in discussione scusate tali affermazioni di christopher insomma stranezza su stranezza ma nulla di illecito e soprattutto nulla che conduca a lui per poter sentire almeno la sua versione rispetto a tutti questi fatti intanto la salute di didi peggiora ancora le dosi di bourbon che ingurgita sono sempre più ingenti e non sapere più nulla del figlio la fa cadere in un baratro profondo trascura se stessa e trascura la casa che comincia a deteriorarsi in questo periodo si appoggia con tutte le sue forze a una coppia che proprio il suo inquilino poco prima di partire le aveva presentato si tratta di don e linda wetherby che prestano anche del denaro a didi e che a novembre del 1985 85 quindi nove mesi dopo la sparizione di john e linda la convincono a vendere casa e a trasferirsi in una roulotte in un parco di case mobili alla puente che loro stesso gestiscono nel frattempo katie viene a sapere dall'operatore del gattile che a giugno una donna misteriosa si era presentata a riprendersi i sei gatti di linda e lui siccome l'alternativa era sopprimerli gli aveva dati i mesi passano passa anche qualche anno e il febbraio del 1988 si porta via didi per un attacco cardiaco il suo testamento esclude il figlio da qualsiasi eredità come ripicca si legge nei suoi diari per essersene andato senza farsi più trovare tutti gli averi stimati sui 180 mila dollari di allora sono destinati a linda wetherby quasi per intero solo una piccola parte va a uno dei nipoti di didi mentre gli altri nipoti sono esclusi senza ulteriori spiegazioni tutto tace di nuovo per altri nove mesi fino a quando arrivano notizie del pick up sparito si trova a greenwich in connecticut a quasi 5000 chilometri di distanza un certo chris bishop l'aveva ricevuto in dono e stava cercando di intestarselo solo che una volta inserita la targa nel database della motorizzazione era emerso che quel mezzo era attinente a un caso di sparizione il pick up glielo aveva regalato un conoscente di nome christopher crowe che risiedeva al 34 di rock ridge road lì a greenwich il detective daniel allen su richiesta dei colleghi californiani si reca a casa dei bishop per avere ulteriori delucidazioni e quando una volta che il poliziotto se n'è andato chris bishop chiama l'amico christopher crowe per chiedergli cosa diavolo lui e il pick up centrassero con la sparizione di due persone crowe per tutta risposta dice devo andare mette giù e i bishop non lo rivedranno mai più l'avete già capito vero christopher chichester e christopher crowe risultano essere la stessa persona dopo aver lasciato san marino ha fatto il broker alla phelps and co da dove viene licenziato quando la compagnia scopre che ha fornito in occasione dell'assunzione il social security number che è una specie di codice fiscale ma senza riferimenti anagrafici che appartiene a un serial killer di nome david berkowitz va a lavorare poi per un'altra azienda la kidder peabody and co ma un giorno si presenta da ralph boynton il suo capo dicendo che deve prendersi due mesi in quanto i suoi genitori sono stati rapiti in pakistan in realtà ha saputo dai bishop che la polizia lo sta cercando infatti quando la polizia californiana che ha tante domande da porre a costui chiede agli omologhi del connecticut di prenderlo in custodia lui è già sparito volatilizzato di nuovo nulla di fatto di nuovo tutto va in stallo robert il padre adottivo di john ingaggia anche un investigatore privato nel tentativo di rintracciare il figlio o quel christopher misterioso ma neanche lui riesce a scoprire qualcosa arriva il 1994 sono passati nove anni dalla sparizione della coppia robert parada aveva acquistato la proprietà di loren road da root a fine 1985 e ora decide di sfruttare il grande giardino per costruirsi una bella piscina chiama l'impresa di josé perez che comincia l'opera di scavo ma il 4 maggio di quell'anno i lavori devono essere sospesi perché lì sotto un metro di terra vengono rivenuti dei resti umani nello specifico tre borse contenenti il corpo smembrato di un giovane uomo con ancora addosso i jeans e una t-shirt scozzese esattamente come si vestiva sempre john souls un riconoscimento ufficiale risulta impossibile poiché il ragazzo era stato adottato quindi nessun test del dna è percorribile e non esiste nessuna lastra delle arcate dentali a cui fare riferimento ma gli inquirenti non hanno dubbi è lui dalle indagini eseguite sui resti si evince che la morte è sopravenuta a seguito di almeno tre colpi da corpo contundente alla testa e da almeno sei coltellate inferte alla schiena tutta la proprietà e le zone adiacenti vengono ispezionate alla ricerca del corpo di linda ma di lei non c'è nessuna traccia si apre una voragine di domande dov'è linda è ancora viva che ruolo ha avuto in tutta questa vicenda già perché linda l'abbiamo visto era ben più alta di john pesava quasi 30 chili in più insomma era quello che potremmo definire un donnone e aveva sicuramente le caratteristiche fisiche sufficienti per sovrastare il marito e christopher c chester barra crow che fine ha fatto è solo un impostore o è un assassino una cosa è certa che due delle borse che contenevano i poveri resti di john portano il logo di due librerie universitarie una della southern california l'altra di miluocchi e in quella casa l'unico ad averle frequentate entrambe era proprio l'inquilino sparito all'improvviso nove anni prima a quel punto un'unità della polizia scientifica con a capo la dottoressa lynn harold viene fatta entrare nella dependence un tempo occupata da christopher c chester viene utilizzato il luminol a caccia di tracce ematiche e una volta spenta la luce quattro grandi macchie di sangue si illuminano sul pavimento come satelliti nella volta celeste le macchie reagiscono al test di castelmeyer ma hanno subito tanti lavaggi per cui non è possibile campionarle per profilare un dna intanto i detective cercano di ottenere nuove informazioni dai vicini di casa che in effetti hanno parecchio da dire qualcuno riferisce che una volta c chester aveva dato appuntamento a una dodicenne pur sapendo la sua età per fortuna era intervenuta la madre impedendogli una cosa del genere tutti lo descrivono come un affabulatore un manipolatore ma le testimonianze non finiscono qui a un vicino aveva cercato di vendere un tappeto orientale lui lo aveva portato a far vedere alla moglie e quando lei lo aveva srotolato al centro faceva bella mostra di sé una grossa macchia rosso scuro con tutta l'aria di essere sangue alle rimostranze della donna l'improvvisato venditore si era limitato a riavvolgere il tappeto e a portarselo via qualcun altro riferisce che un giorno durante una festa organizzata da christopher in giardino aveva visto una zona dove l'erba era assente come se fosse stato effettuato uno scavo recente interrogato in proposito christopher aveva risposto che c'era stato un problema idraulico e poi come se tutto questo non bastasse aveva chiesto a un'altra persona il signor stewart se aveva una motosega da prestargli l'aveva tenuta per qualche giorno e poi gliel'aveva restituita aveva anche detto a stewart che doveva tornare in connecticut per un problema di famiglia e quando l'amico aveva risposto che anche lui aveva intenzione di andare da quelle parti christopher si era rifiutato di dare ulteriori dettagli su casa sua e poco dopo la restituzione della motosega era sparito motosega che verrà comunque analizzata dalla scientifica senza che sia trovata nessuna traccia correlabile con lo smembramento di john gli inquirenti non hanno dubbi anche se non possono sapere esattamente come siano andate le cose e quale sia stato il ruolo dell'ambiguo personaggio lui in qualche modo c'entra sì ma dov'è viene ovviamente spiccato un mandato di cattura ma non si conosce nemmeno il suo vero nome è come dare la caccia a un fantasma qualsiasi traccia riconducibile al fuggiasco si smaterializza non appena gli inquirenti cercano di approfondirla non si sa nemmeno se sia ancora in territorio americano perché potrebbe anche essere fuggito all'estero nessuno lo sa nessuno porta informazioni effettivamente utili alla sua cattura tutto resta di nuovo sospeso fino all'estate del 2008 siamo a boston tre persone stanno camminando su di un marciapiedi della città una donna che di mestiere fa l'assistente sociale un uomo elegantemente vestito e una bimba di sette anni improvvisamente un'auto sportiva affianca i tre l'uomo elegantemente vestito spinge via l'assistente sociale afferra la bambina e con lei si infila nell'auto che riparte a tutta velocità poche ore dopo la notizia è su tutti i telegiornali clark rockefeller imparentato con la potente famiglia omonima ha rapito sua figlia la bambina era stata affidata alla madre sandra boss una ricca donna d'affari mentre lui poteva effettuare delle visite sotto il controllo dei servizi sociali i due si erano sposati con rito quacchero in massachusetts nel 1995 dopo essersi conosciuti mentre lei stava frequentando il master post laurea di economia ad harvard rito non riconosciuto legalmente dall'ordinamento di stato lui oltre a far parte della famiglia dei rockefeller è laureato a yale ha un giro d'affari in canada ed è un onorato membro dell'algo in boston una sorta di esclusivissimo country club a maggio del 2001 nasce la loro prima figlia reig e si trasferiscono a cornice nel new hamshire ma a luglio del 2007 i due si separano e lui in cambio di denaro abiti e un'auto accetta di poter vedere la figlia solo tre volte all'anno e sotto la supervisione dei servizi sociali a causa del cognome la notizia del rapimento finisce su tutte le testate nazionali e inevitabilmente arriva anche a san marino los angeles california sono diverse le persone che riconoscono in quel padre in fuga proprio il vecchio inquilino di root sauce christopher cichester ma è lo scrittore eduard savio a chiamare l'fbi per dire che quel rockefeller non si faceva chiamare così una trentina di anni prima quando da studenti avevano convissuto brevemente in connecticut grazie a quella e altre segnalazioni l'fbi si mette in moto e incrociando le impronte digitali stabilisce inconfutabilmente che christopher cichester christopher crow e clark rockefeller sono la stessa persona contemporaneamente le squadre investigative continuano la ricerca dell'uomo e della bambina vengono localizzati sei giorni dopo il rapimento a baltimora in maryland e grazie alla collaborazione del locatore dell'appartamento preso in affitto dal fuggiasco l'uomo cade in trappola e viene arrestato ha già un'identità nuova di zecca ora veste i panni di un capitano marittimo di origine cilena di nome charles smith ha già pensato pure al soprannome chip la bimba sta bene e viene restituita alle cure materne appena messo sotto custodia e riportato in california l'impostore asserisce di essere il figlio dell'attrice anne carter un ex bambina prodigio degli anni 40 che lui dice essere passata a miglior vita la donna invece è vive vegeta morirà sei anni più tardi nel 2014 e ovviamente dice di non aver nulla a che fare con lui che continua nelle sue esternazioni probabilmente nel tentativo di passare per pazzo e così dice che lui e la bambina sono collegati telepaticamente lui non l'ha rapita ma l'ha salvata perché sentiva le sue continue richieste di aiuto tutta la sua web of lies il suo castello di bugie costruito tassello dopo tassello per decenni crolla miseramente e lui finisce sotto i riflettori inerme e nudo come quando aveva aperto sprezzantemente la porta agli agenti il suo vero nome è christian carl gerzreiter è nato il 21 febbraio del 1961 a bergen in germania ma lui dice di essere nato il 29 febbraio del 1960 che effettivamente era un anno bisestile ma il certificato di nascita lo smentisce clamorosamente la sua è una famiglia della classe operaia i genitori sono irm guard e simon ha anche un fratello alexander è adolescente quando fa la conoscenza di una facoltosa coppia di americani elmer e jean ken che sta viaggiando attraverso l'allora repubblica federale tedesca e da lì parte la sua carriera di manipolatore e arrampicatore sociale ottiene i dati sensibili della coppia che poi usa per entrare negli stati uniti nel 1978 quando ha 17 anni facendo figurare che sarà loro ospite ottiene così un permesso da studente si trasferisce a berlin in connecticut dove entra nelle grazie della famiglia di edward savio che lo ospita mentre i due diventati amici frequentano l'ultimo anno di liceo racconterà savio l'uomo che poi chiama l'fbi quel suo strano amico era in grado di parlare in modi e con accenti diversi a seconda della persona con cui interagiva poi si sposta in altri stati e a madison in wisconsin sposa la 22enne emi gershiel dunque per ottenere la green card ovvero il permesso di restare legalmente negli stati uniti più o meno ad libitum per convincerla le dice che se è costretto a tornare in germania verrà mandato sul fronte russo nell'ambito della guerra fredda lei si impietosisce e lui il giorno dopo del matrimonio fa fagotto e parte alla volta della california i due poi divorzeranno legalmente nel 1992 i due procedimenti quello per il rapimento della figlia e quello relativo all'accusa di aver ucciso john sauce procedono parallelamente gli viene chiesto durante l'interrogatorio se sia stato lui ad uccidere il figlio della sua padrona di casa e lui risponde come ha condotto tutta la sua esistenza in modo sibillino e ambiguo non lo ammette e non lo nega la sua risposta è sono sempre stato un pacifista sono un quacchero credo nella non violenza e sono abbastanza certo di non aver mai ferito fisicamente nessuno per i poliziotti assomiglia a una confessione a febbraio del 2009 come ci si poteva aspettare il suo avvocato fa istanza affinché venga riconosciuta al suo assistito l'infermità mentale che però viene respinta ma gli viene diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità e il cosiddetto disturbo delirante ovvero una psicosi che porta il paziente appoggiare la sua vita su false credenze che gli alterano la realtà dopo che la vicenda è stata esposta molti cittadini di san marino raccontano dettagli che sarebbero divertenti se non ci fosse di mezzo la sparizione di due persone e l'uccisione di almeno una di costoro pare che girasse con l'auto foderata di post it ora si capisce per aiutarsi a memorizzare tutte le bizzarrie che inventava e a non tradirsi ma gli alias e le situazioni surreali che questo personaggio ha messo in atto non strettamente legati alla vicenda sono molto più numerosi di quelli che vi ho narrato tra le varie amenità aveva raccontato in giro di essere stato chiamato da george lucas sì proprio quello di guerre stellari per collaborare a un suo film e qui mi fermo a maggio del 2009 comincia il processo per rapimento che si concluderà con la condanna a cinque anni intanto nel 2010 arriva anche la conferma ufficiale che i resti rinvenuti durante gli scavi a san marino appartengono per certo a john sauce gli inquirenti hanno infatti rintracciato una sorrellastra biologica di john con cui incrociare il dna il 15 marzo del 2011 christian gerhardt's writer viene formalmente incriminato per l'omicidio di john sauce i due anni esatti dopo nel 2013 inizia il processo i giurati sono sei uomini e sei donne viene chiamata a testimoniare anche l'ex moglie sandra boss che prima di arrivare alla separazione nel 2006 aveva ingaggiato un investigatore privato insospettita dai comportamenti poco cristallini del marito e dalla sua ossessione per la privacy la linea difensiva verte principalmente sulla mancanza di un movente ma spinge anche nella direzione di una probabile responsabilità di linda in virtù come abbiamo visto di caratteristiche fisiche che lo avrebbero consentito ma la giuria non si fa irretire e in due sole ore stabilisce che christian carl gerhardt's writer è colpevole per omicidio di primo grado prima che la condanna venga determinata gerhardt's writer licenza il suo team legale prova a modificare gli eventi autodifendendosi cosa non consentita in italia in ambito penale ma negli states si tutto inutile viene condannato a 27 anni di reclusione qualche mese dopo presenta anche una mozione per ottenere un nuovo processo affinché venga rivalutata la premeditazione e per la cattiva condotta del pubblico ministero che aveva reagito secondo l'istanza in modo inappropriato quando la difesa di gerhardt's writer aveva aperto alla possibilità che fosse stata linda ad architettare tutto ad uccidere il marito smembrano il corpo e seppellire i resti in giardino ma il giudice della corte suprema di los angeles george lumeli respinge la mozione successivamente gerhardt's writer si fa intervistare da una nota trasmissione americana durante la quale sostiene che non può aver ucciso linda sauce perché lei è ancora viva perché nel 1987 ha visto un trailer di quelli che trasportano i cavalli con su scritto un nome che elaborando un po le lettere sarebbe suonato proprio come linda sauce e questa è l'ultima delle sue uscite resta l'interrogativo dov'è linda per quale recondita ragione gerhardt's writer non l'avrebbe sepolta con john se l'avesse uccisa e le linee da parigi chi li ha spedite lui era sicuramente su suolo americano e le perizie calligrafiche delle controparti non sono arrivate a una conclusione univoca ma la scrittura sembra proprio quella di linda sui francobolli è stato isolato un dna maschile che non apparteneva né a john sauce né a gerhardt's writer e la donna che ha ritirato i gatti chi è dove li ha portati insomma i quesiti sono ancora tanti la storia non può dirsi completamente risolta ma la domanda che mi sono fatta alla fine di questa storia e che sono certa vi stiate facendo anche voi è e se robert parada non avesse deciso di mettersi una piscina in giardino john e linda sarebbero rimasti nell'infinita lista delle persone scomparse e senza i corpi probabilmente christian carl gersteiner almeno per l'accusa di omicidio l'avrebbe fatta franca il video finisce qui vi ringrazio come al solito per il tempo che avete dedicato e spero di trovarvi anche al prossimo ciao e grazie grazie